È molto emozionante perché trasmette molto le emozioni storiche, diciamo del periodo storico molto critico in cui si svolge il film e trasmette probabilmente il sentito delle emozioni dell'epoca. Film bellissimo, Elio Germano è eccezionale, io sono del 55, del 75 avevo 20 anni, ho ripercorso una importante fase della mia vita, Commovente. Piaciuto è un film che ripercorre essenzialmente dal punto di vista politico, direi, piuttosto che dal punto di vista del personale. Bellissimo, Commovente, ho rivissuto una parte dei miei tempi. Elio Germano è bravissimo, è proprio bravissimo e il film è meraviglioso. Mi è sembrato molto interessante, comunque delle vicende ovviamente già conosciute, però mi è sembrato ben strutturato nel narrarli, ecco, senza troppa enfasi e quindi quello mi è piaciuto. Racconta una parte della nostra vita che potrebbe forse aiutarci anche a capire forse un po' meglio il nostro mondo. L'ho trovato interessante, mi è piaciuto. Si sono fermati al punto giusto e l'interpretazione è stupenda, eccellente. Mi ha molto commosso perché, vabbè, io ho 60 anni, quindi ho vissuto quello che viene raccontato in questo film. Guardate, sono molto emozionata. Credo che dovrebbero vederlo, tanta gente dovrebbe vederlo.